Mazzara del Vallo si conferma città multiculturale e multietnica, oggi nell'aula consigliare il conferimento della cittadinanza onoraria, della cittadinanza seppur simbolica, a 273 minori stranieri che frequentano le scuole mazzaresi. Il ventitresimo anniversario della Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia, davvero grandi temi ma agganciati al territorio in una città che ha sempre guardato agli stranieri come a dei fratelli. Troviamo del tutto naturale che nella nostra città si svolga una iniziativa di questa natura e non soltanto perché a proporla è un organismo importante come l'Unicef, l'iniziativa ha trovato comunque la collaborazione anche di altri enti, di altre associazioni, in primo luogo anche c'è stata un'iniziativa delle Suore Francescane, c'è una partecipazione collegiale dell'opinione pubblica, la gente trova che questa nostra città è effettivamente un territorio vocato alla multiculturalità, alla multietnicità. Questo messaggio lanciato soprattutto agli italiani e soprattutto a quella parte d'Italia dove magari c'è frizione con il mondo degli immigrati è un messaggio nobile che ingigantisce il ruolo di Mazzara del Vallo. Certo è una cittadinanza onoraria simbolica ma credo che a volte i simboli siano molto importanti perché in un certo senso nobilmente condizionano anche il comportamento del legislatore. Mi auguro che sulla materia di questa natura si torni a legiferare perché trovo del tutto assurdo che chi nasca in Italia magari da genitori che da anni si trovano nel nostro paese incontrino poi difficoltà a trasformare la loro presenza qui nel godimento della cittadinanza reale. Credo che questo sia un bel messaggio che parte da molte città d'Italia ma che a Mazzara del Vallo sta trovando la giusta amplificazione. Assessore Billardello un'altra testimonianza del ruolo di Mazzara del Vallo multiculturale e multietni? Una conferma di questo ruolo e soprattutto un ringraziamento particolare oltre all'Unicef che ha portato avanti questo evento al sindaco della città onorevole Nicola Cristaldi che ha mostrato sempre una particolare attenzione al mondo della multiculturalità e della multietnicità presente nella città di Mazzara del Vallo. E oggi io posso dire che di essere onorato di partecipare a questo evento nella qualità di assessore comunale alle politiche sociali e alla pubblica istruzione per il semplice fatto che i protagonisti di questo evento sono i bambini e gli adolescenti, cioè coloro i quali rappresentano la società di domani, rappresentano la futura classe dirigente. E mi auguro che questi soggetti e questi studenti possano acquisire durante il loro percorso scolastico tutti quei valori, quei principi della convivenza democratica, della legalità, della trasparenza affinché la cultura possa per loro rappresentare un patrimonio e quindi rappresentare un bene per la società del futuro. Il professor Gasper Emaielli, presidente provinciale Unicef. Oggi a Mazzara del Vallo in collaborazione con l'amministrazione comunale il conferimento della cittadinanza onoraria seppur simbolica a 273 minori stranieri che frequentano le scuole mazzaresi in una giornata nella quale si celebra il ventitresimo anniversario della Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia. Oggi a Mazzara, come in altre 65 province d'Italia, in occasione appunto della ricorrenza dell'anniversario della Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia l'Unicef ha deciso un po' di sensibilizzare chiaramente il nostro mondo politico cercando di dare la cittadinanza onoraria appunto a questi ragazzi nati in Italia ma che non hanno gli stessi diritti dei nostri ragazzi, approfittando appunto di questa giornata. Un'occasione sicuramente molto importante in una città sicuramente di grande rilievo, Mazzara voglio dire una città anche simbolo proprio per la grande presenza dei stracomunitari che noi abbiamo qui, quindi ritengo che è una grande giornata di sensibilizzazione e di grande rilevanza.